C'è un dottore da queste parti, andiamo tutti dal dottore che siamo malati. C'è un dottore? Toc toc. C'è un dottore qui? C'è un dottore? Buongiorno dottore. Buongiorno, cosa vorrete qua? Siamo tutti malati qua, ci siamo presi un virus. E come? E che viene prima? Qui abbiamo un virus cattivo che ci ha preso e siamo tutti malati qua, guarda, tutti questi in lì sono tutti freddi di virus. E me li guarisci per favore? E chi arriva per vivo? Prima questo è un chiro orso. E dove è malato? Dove è malato? E c'è un virus, si è preso il virus. Dove è malato? Coronavirus. Alla coda? Sì, sì. Cioè il virus alla coda. E come ti posso guarire? E come posso guarirla alla coda? Allora devi mettere il gel, la mucina e poi una bella puntura di antibiotico. Cioè l'hai questa coda? Ma che te lo devo dire io? Sei tu il dottore, eh? E allora acquista la fumata? Eh, guariscilo subito. E acquista la fumata? Dottore, guarda che lui ha un virus molto cattivo. Ecco. In chi? Come stai? In chi? Sei guarito? Oh, sto bene adesso. Sono guarito. Ho una bella fumata. Ho una bella fumata. Oh, come sono guarito. Grazie, grazie. E qui? Questo cavalluccio pure è malato, eh? C'è il virus dei cavalli. Aspetta, sto mettendo a posto queste medicine. Eh, ma intanto lui piange, vedi? Questo dottore è proprio una cosa incredibile. Sempre disordinato. Tutte le medicine buttate qua, là, su, giù. Dottore, ma insomma. Allora? È lui e sta male questo cavallo. C'è una febbre cavallina. Guarda, ho messo a posto quello lì. Eh, brava, brava dottoressa. Adesso mi cura il cavallo, per favore, che mi serve. E dove è malato? Eh, c'è il virus dei cavalli. E dove è malato? È qui, alla testa. Ma è malato alla guanta? Sì, sì, proprio lì, vedi qui, è tutto malato. È tutto malato alla guanta, allo stato? Ma forse c'ha tra fame. Ce l'hai qualcosa da mangiare? No. No, i dottori non hanno niente da mangiare. I dottori non hanno niente da mangiare, i dottori? No. Ok, mi dico. E allora gli puoi regalare un giocattolo? No, e anche i giocattoli ha. Ma tu non c'è proprio niente, dottore mio. No, ho solo le cose da dottori. E allora dagli una bella medicina. No, perché mi serve. E allora che... Oh, e lui sta male, eh? Allora sta male di qualcosa qua. E dagli... Fagli una bella iniezione. Quale? Quella puntura, prendi. No. No. Gli do la pomata, forse. Ma quale pomata? Questo sta morendo di... Niente, una pomata. Va bene. Forse... Signori, andate da un altro dottore voi se state male, eh? Perché qua... E insomma... Fatto! Ecco, lui invece c'è il raffreddore. E allora come posso guarirlo nel raffreddore? Intanto dobbiamo vedere se c'è la febbre, perché se c'è la febbre allora si è preso un virus. Ce l'hai qualcosa per misurare la febbre? Stai tu guardo con questo. Oh dottore, mi fa male la testa. Anzi... Dopo, dopo. Dopo di questo. Eh? Dopo di lui. Se io sempre l'ultimo sono. Vabbè, unghì, vieni qui. Non ti avvicinare a quello che è malato. Non ti avvicinare che tu prendi virus. Vieni via. Me l'hai guarito questo, unghì? No. Guarda la coda. È proprio malata? È proprio malata? Sì, c'è una coda malata. È tutta rossa. E ha male anche questo. Sì, ma c'ero prima io. E cominciamo che mi passano avanti tutti gli animali qua. Dopo c'è... Prima ci sono io. No, prima c'è lui. Dottore, guarda bene le cose. Dottor Coccodrillo? Mi dai una medicina, dottor Coccodrillo? Quale? Per chi? È per me. Io sto male. Dopo per oggi qui in B. Qui c'è tanta gente, mamma mia. Stanno tutti male in questa città. E ora sono io, malata. Pure tu sei malata. E adesso come facciamo? Ma tu sei il dottore, non puoi essere malato. Ora sono malata io. E tu guarisci me. Tu guarisci me. E ho i miei figli. E ho i miei figli. Perché sono tutti malati. E che cos'hanno? Il virus. C'hanno il virus. Tu sei il dottore. Ma io sono impazzente. Ma come? Vengo qui e ti ammali pure tu. Non va bene? Non c'è più nessuno qui? Voi due. Ma che siamo voi due? Siamo le due. Io sto male, mi devi guarire. No, io non ti guarisco. Come non mi guarisci? Io voglio guarire. No, non ti guarisco. Mi hanno detto che sei un bravo dottore. Mi devi guarire. Ora non sono più il dottore. Non ho gli occhiali. Ah, senza occhiali non sei dottore. Allora te li do io gli occhiali. Aspetta. No, no. Non li voglio. Prendi gli occhiali da dottore. No. No. Va bene. Allora faccio io il dottore. Vieni qui. Sono io il dottore adesso. Prego si sieda signora. Si metta lì. No, lui. Lui ha male. Lui ha male. Tu già sei guarita? No. Prima c'è lui. Allora. No, prima c'è lui. Prima c'era lui. Lui chi? Qui vedo un sacco di animali. Questo. Quale? Quello. Quello verde. Quello verde. Mamma mia che brutto colore che hai. Ti vedo proprio male, male, male. Va male. Allora adesso dobbiamo mettere tre supposte di tachitrina. No, una nuotata. Una nuotata? Ah, va bene. E la pomata. Pomata, pomata, pomata. Ah, non una nuotata. Una pomata. Scusa, ma io sono pure un po' sordo. Eh, non capisco niente. Ma che ne so. Saranno gli occhiali. Gli occhiali. Allora, tu cane, levati perché qui non ci puoi stare. Questo è riservato solo ai coccodrini. Allora, una bella iniezione. Una bella iniezione. No, allora. Di Arissa. No. E ti passa tutto. No, no. Signori, vabbè, andate da un altro dottore perché qui... Davo, Davo, siamo qui. Ma non so se io è il dottore. Non so se io è il dottore. Eh, no, 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 no. Che sei, allora? Io sono un pappagallo. Non so se io è il dottore. Sono un pappagallo. Ma deve essere il dottore. Adesso con gli occhiali divento dottore. Allora, sono il dottore. Lallo. È malato lui? È malato. Si è preso un virus? Sì. Eh, allora qui dobbiamo guarirlo. Ma perché? Scusa, ma io lo voglio mettere qua. Vabbè, signori, buonanotte. Qui lo studio medico chiude. Ciao. Eh, c'è troppo lavoro. Mi sono già stancato io. Troppi pazienti qua. Puoi giocare? Eccolo qui il pappagallo all'altro. Ok.